Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti a Occhio ai Giornali. Siamo in diretta come tutti i giorni qui per mostrarvi i quotidiani in edizione locale, le notizie principali, faremo naturalmente un sorvolo su Resto del Carlino e Corriere Adriatico, però noi guardiamo sempre l'almanaco del giorno e anche le previsioni del tempo e lo facciamo anche oggi. Allora partiamo dal Santo del Giorno, oggi è sabato 21 ottobre, Sant'Orsola e compagnie martiri, la Chiesa ricorda appunto Sant'Orsola e le sue compagne, il sole è sorto alle 7.30 e tramonterà alle 18.16. Il tempo è, possiamo dirlo tranquillamente, all'insegna della variabilità ma con tendenze al brutto, vedremo che dalle previsioni della protezione civile delle Marche lunedì sarà un giorno ribilis, almeno sulla carta. Per oggi intanto il cielo si mantiene sereno, poco nuvoloso, con transito di nubi alte nel pomeriggio, però le precipitazioni non ci sono, temperature in lieve aumento. Domenica, domani il tempo peggiora un pochettino, infatti vedete l'ampia sequenza di didascalie, testimonia che il tempo è quanto mai variegato, vedete che nella parte centrale e meridionale delle Marche compare la pioggia, nuvolosità intensa, maggiori addensamenti però nelle zone interne e generale, aumento della copertura da fine mattinata in sera, in serata, aumento della nuvolosità e quindi anche le precipitazioni sia nel pomeriggio sulla fascia collinare che costiera, però appunto in serata ci sarà un peggioramento con anche rovesci e temporali sparsi su tutta la costa, sempre a livello settentrionale. Lunedì, come vi dicevo, giornataccia almeno sulla carta perché vedete non compare per niente il simbolo del sole, quindi tutto nuvolo, nuvoloso, progressiva diminuzione però della copertura verso il finire della mattinata e quindi insomma si inizierà così, precipitazione nella prima parte della giornata, rovesci e temporali, insomma ci aspetta un bel lunedì, già il lunedì alle 8 di mattina è quello che è, se poi ci si mette anche il tempo non è certo l'ideale. Allora guardiamo come aprono i due quotidiani, il resto è Carlino e Corriere Adriatico, vediamo il Carlino, due aperture molto sostanzialmente diverse, quelle dei due quotidiani, centro pagina, fotonotizia, si parla del CUP, la nostra croce, parlano i cittadini, troppe chiamate dai pazienti, è impallato da giorni il sistema di prenotazione telefonica per le visite mediche, proteste a raffica, forse i rimedi fra qualche mese. Poi si parla di Fano e della eterna vicenda del Lisippo, abbiamo fatto tutto in regola, parla Stephen Clark che è il responsabile del Getty Museum, venuto qui in Italia proprio per l'udienza e poi solidarità e anche il rinvio della partita Fano-Modena e razzia di capi in un negozio della Baia, colpo grosso, ladri in fuga con 30 mila euro di bottino, quindi c'è anche cronaca. Il Corriere Adriatico invece punta sulla fotonotizia, apre con la politica perché se non c'è stato un bagno di folla per Renzi, quindi non ha acceso gli animi dei fanesi, però ha acceso gli animi della politica perché il dopo Renzi riaccende la bagarre nel partito e Ricci dice vincono i sindaci, comi fuori strada. Il monito verso le politiche, meno tatticismi dentro i cittadini, i più popolari. Poi si parla di strategie, il presidente territoriale di Confindustria rilancia il progetto strategico per arretrare la ferrovia, se ne era parlato anche qui a Fano nell'incontro tra i due sindaci appunto, e quindi insomma sta prendendo sempre più corpo questa idea. E poi Carnevale, la presidente litiga con la commissione, questa è una notizia comune sulle pagine di la cronaca di Fano, a tutte e due i quotidiani. Già Marioli non si presenta all'audizione di controllo, i bilanci approvati sono online, andrò in consiglio, queste le sue parole. Allora ripartiamo dal resto del Carlino e dal problema legato alle prenotazioni del CUP, e quindi alle vicissitudini dei cittadini. Troppe telefonate, il CUP va in tilt, proteste a Valanga, vedete in questi due riquadri la situazione in una mattinata comune, le chiamate sono triplicate, il sistema è predisposto per ricevere 5.000 richieste al giorno, ma ora sono il triplo, quindi parliamo di 1.500 chiamate, e chiaramente i sistemi, soprattutto quelli automatizzati, non sono intelligenti, e per cui vanno in tilt. Massimo Maggi dice, si pensa che il Megacoup risolvesse tutti i problemi, invece come si vede, ora siamo punto e a capo, bisogna fare un salto di prospettiva. E sempre dal resto del Carlino, rimaniamo sul quotidiano bolognese, la notizia dell'Esippo che rimane lontano, titola il Carlino, perché il direttore del Ghetti non molla l'osso, come si dice nell'audenza di ieri, lui ha dichiarato, noi siamo in regola, gli acquisti li abbiamo fatti con le carte in regola, e quindi rimane nostro. Il Magnate non ha mai avuto alcuna incertezza sulla correttezza dell'operazione, l'unico dubbio era il prezzo di vendita giudicato alto, però poi alla fine se lo sono comprati. Letti in aula gli appunti di Ghetti Senior, che sognava di poter avere questo bronzo, l'acquisto slittò, quindi qui è ripercorsa un po' la vicenda, per la morte del figlio e il rapimento del nipote, che chi ha più o meno la mia età se lo ricorda, il rapimento di Paul Ghetti e l'orecchio mozzato. La battaglia dura da dieci anni, il rapimento di Ghetti fu una vicenda che tenne banco sulla cronaca nei giornali, nei rotocalchi e nei telegiornali per molto tempo. Anche il Corriere Adriatico parla di questa udienza, e anche qui riporcorse un po' tutti i momenti. Per Ghetti l'acquisto era legale nel 1973, desistette per il prezzo alto e altri problemi. Secondo gli avvocati, lo Stato italiano non rivendicò l'opera. Questo è l'articolo presente sul Corriere Adriatico. Rimaniamo sul Corriere Adriatico, sempre ripercorrendo questa vicenda. Dalla cronaca di Pesero si parla appunto di un giallo transnazionale. Parla il capobarca Romeo Pirani, che dichiarò di aver ripescato la Stato nelle acque antistanti la zona di Pedaso. Secondo invece il Ghetti Museum, finì in Brasile, poi in Inghilterra, in Germania, prima dell'acquisto del 1977. Insomma, una vicenda internazionale molto intricata dalle svariate sfaccettature. Anche nelle pagine del Corriere Adriatico si parla appunto di politica, dal lancio della prima pagina. Vi avevo detto appunto che l'arrivo di Renzi a Fano ha scatenato un po' tutti i tatticismi, le presenze, le non presenze, chi c'era, chi non c'era, perché, perché Fano, perché Pesero, insomma, bagara. Vincono candidati popolari e sindaci, ecco perché Comi è già fuori strada. Il Monito di Ricci, in vista delle politiche, dice meno tatticismi, bisogna fare una figura, ora servirà una figura più autorevole. L'intervista in questa pagina 15 del Corriere Adriatico con il numero 1 di Pesero, il sindaco Matteo Ricci, presente appunto all'arrivo di Renzi. e c'è, naturalmente, non poteva essere diversamente, un articolo che parla della tragedia del bambino a Penna San Giovanni, che è stato un po' il teatro dell'incidente, vedete qui la piscina incriminata, vedete purtroppo questo velo d'acqua è bastato per la tragedia, insomma, la piscina era coperta, ma le piogge, l'acqua piovana, alle volte fa queste pozze e per un bambino piccolo, di appena 22 mesi, possono più che bastare. Ora è in coma farmacologico al Salesi, ripercorsa anche qui la sua tragedia. Da Pesero, ritorniamo sul resto del Carlino, padre Serafino è partito, niente da fare, la rabbia dei fedeli, il frate malato ha lasciato il convento dei servi di Maria in anticipo sui tempi. Rammarico perché, dicono i suoi fedeli, avremmo voluto salutarlo anche ieri mattina, temiamo per la sua salute. E poi, in basso, nella pagina 11 del resto del Carlino, si parla di Borgo Santa Maria, il PD replica ai residenti, non si deve alimentare la paura. Questo è il pensiero del PD locale ai cittadini di Borgo Santa Maria. Andiamo a Fano, rimaniamo nel Carlino, andiamo a Fano, si parla di scuola, la mappa delle criticità, problemi anche alla materna Gallizi, e a quella di Falcineto, in Curia, Crepe, vedete qui c'è una lunga serie di foto, a puntare il dito su questa situazione è del vecchio, che appunto manda una lettera che dimostra quanto sia fragile questa situazione, secondo lui, delle scuole fanesi, soprattutto quelle periferiche, palestra chiusa, è piena di crepe, l'asilo Alberto, l'albero azzurro, nell'asilo, l'albero azzurro, i bambini fanno ginnastica in un corridoio. Ancora, nella cronaca locale di Fano del Carlino, ieri c'è stata la consueta conferenza stampa con il sindaco e l'amministrazione, e è stato presentato un progetto di respiro internazionale in cui Fano è capofila, un ponte per la Tunisia nel sostegno del biologico, capofila di un progetto ministeriale milionario, si parla di 1.600.000 euro, appunto, ecco qua, di cui 352.000 euro saranno tutti per Fano per gestire tutta l'operazione, altri sono i soggetti interessati, dovranno essere messi in piedi start-up e joint venture, sarebbe a dire collaborazioni, per tradurre un po' l'inglesismo, collaborazioni con aziende locali e nuovi inizi di impresa, appunto, per aziende agricole tunisine, ma anche locali, insomma, un bel progetto che sicuramente mette Fano sotto l'attenzione un po' anche a livello nazionale e internazionale. E poi i guai della Carnevalesca non finiscono mai, Carnevalesca arrogante e la denunceremo, questa è la commissione di controllo e garanzia che l'aveva convocata, volano gli stracci, come si dice in gergo, sui conti della Carnevalesca. La presidente dell'ente, però, non dà la sua disponibilità all'incontro con i consiglieri, per l'incontro con i consiglieri comunali e per questo il presidente della commissione, Davide Delvec, dell'Udc, perde le staffe e minaccia azioni legali contro l'associazione. e vedremo come andrà a finire anche questa vicenda per il vituperato nostro Carnevale. Cartellone del Fano Jazz pronto al debutto, però ci si trasferisce in un'altra location, chiuso all'Osteria del Caico, il festival, così, per gli amanti del Jazz, si sposta i giovedì all'Osteria Tiravino. Andiamo nelle pagine di Fano del Corriere Adriatico che anche qui, naturalmente vi dicevo era la notizia comune ai due quotidiani, parla appunto delle tensioni tra la carnevalesca e la commissione di controllo. Come titola il Corriere Adriatico Carnevale tensione sui conti. La presidente non si presenta e la Gianmarioli dice andrò in consiglio. I bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2018 dice Maria Flora Gianmarioli sono già sul web e quindi consultabili. Duro scontro sulla sanità tra 5 Stelle e Sinistra Unita, la critica politica interna alla riforma e ora è una scintilla che potrebbe innescare polemiche a tutto dire. Sorpasso la colonna di auto e si schiantano, siamo nella cronaca, due ragazzini in scooter finiscono a terra e si scontrano contro una vettura in via Roma. Purtroppo questa è una tipologia di sinistro abbastanza comune. C'è la fila incolonnata per svariati motivi all'altezza di un incrocio. Giustamente come dice il codice della strada si lascia una finestra per far svoltare a destra e sinistra le auto però spesso la visibilità in quei punti non è eccezionale soprattutto per chi arriva come un motorino che non vede la macchina che sta uscendo in quel momento dall'incrocio e purtroppo l'urto è inevitabile è accaduto però i due ragazzini non si sono fatti molto male sono finiti in codice giallo al pronto soccorso speriamo che stiano tutti e due molto meglio di ieri dopo lo spavento e anche qui continuiamo nel Corriere Adriatico ancora le buone notizie perché dalla Croazia a livello naturalmente di infrastrutture dalla Croazia arrivano 4.000 tonnellate di pietra renaria per rifare le scogliere questa volta nella zona diciamo sud che va dagli ex co-cart fino alla foce del Metauro sono 11 le scogliere che verranno interessate sono 400.000 euro di lavori 200.000 euro per lotto per stralcio sono due stralci e oltre 8.000 tonnellate di materiale in totale il comune tra questa operazione che sono 100.000 euro che ci mette e quelle precedenti ha buttato diciamo a mare ma in senso buono un milione di euro per rifare tutte le scogliere a protezione di Viale Ruggeri e insomma tutto quel tratto di costa quindi un impegno importante andiamo a Urbino con le pagine dei due quotidiani vediamo il resto del Carlino schiamazzi vomito caos tornano i giovedì in piazza siamo a Urbino appunto per la festa della matricola e residenti come sempre come tutti i giovedì lamentano rumori fino a tarda notte poi i protagonisti i bambini bambini e pompieri sono una una di quelle unioni estremamente positive perché bambini e vigili del fuoco hanno sempre avuto una grande attrattiva uno per l'altro scoprire come domare il fuoco oggi una lezione dei vigili vedete questi piccoli vigili del fuoco con il caschetto insomma sono molti bambini che dicono quando gli chiedono cosa vuoi fare da grande vuoi fare il pompiere insomma e quindi vederli da vicino gli farà sicuramente piacere là invece il Corriere Adriatico punta sulla notizia dell'Unione Montana Gambini il sindaco prova a rammendare lo strappo democratico summit dopo la sfiducia della presidente i sindaci problemi gestionali dicono ma non politici e appunto Romina Pierantoni dice invito i cittadini a leggere e valutare il verbale di lunedì per vedere come stanno realmente le cose nella Val Cesano sempre per il Corriere andiamo a Mondolfo oltre un mese di incontri su tutto il territorio dal centro di Mondolfo e Cartoceto fino a Piano Marina Barbieri in tour per confrontarsi con appunto i suoi elettori la città che riparte un mese di incontri tra la giunta e i residenti dei diversi quartieri l'ascolto l'ascolto di questo giovane sindaco che sta veramente dando una svolta un volto nuovo a quelle zone con la sua azione vuole confrontarsi con i propri cittadini per come si suol dire aggiustare il tiro sempre meglio e quando insomma il pubblico e la politica si confronta con i cittadini è sempre un momento importante Senigallia l'ultima pagina che vi faccio vedere come sempre si parla di anche qui edilizia pubblica però in negativo perché gli edifici storici senigalliesi vanno un po' in pezzi almeno questo è quello che ci racconta il Corriere Adriatico Chiesa dei Cancelli Biblioteca Antonelliane Palazzo Gherardi ed ex collegio Pio IX hanno bisogno di un notevole restyling e anche in Piazza Saffi il selciato da riparare stanziati 40.000 euro per finestre e infissi per il palazzo che ospita il comando dei vigi vedete qui una postura del sindaco Mangialardi quanto mai evocativa e significativa insomma vedremo anche loro come se la caveranno con l'edilizia pubblica bene siamo arrivati in fondo a quest'ultima rassegna stampa della settimana Occhio ai giornali tornerà naturalmente puntualmente lunedì mattina alle 7.30 per questa settimana è tutto grazie per la vostra cortesia attenzione vi auguro un buon fine settimana a tutti voi grazie